Le prime notizie di martedì 11 giugno. Si ricontano le schede a Lecce per stabilire se Adriana Polibortone, candidata del centrodestra, ha superato il 50%, battendo così al primo turno Carlo Salvemini, sindaco uscente, fermo al 46%. A Bari sarà ballottaggio tra Vito Leccese, candidato del PD con il 48% e Fabio Romito, espressione del centrodestra, con il 29%. A Mesagne c'è il sindaco più votato d'Italia. Tony Matarrelli, centrosinistra, è stato riconfermato con il 95% delle preferenze contro Vincenzo Lotesoriere, candidato di Fratelli d'Italia, record anche di Antonio De Caro. Alle europee il sindaco uscente di Bari è stato il più votato in assoluto per il PD. Dalla Puglia vanno a Bruxelles anche Francesco Ventola, Michele Piccaro e Chiara Gemma di Fratelli d'Italia e Valentina Palmisano del Movimento 5 Stelle. Vincenzo Denitis, 35 anni, di peschici, ha perso la vita ieri mattina in un incidente avvenuto sulla provinciale 38 che collega Apricena a San Nazario. La sua moto si è schiantata contro un'auto. La compagna, gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Foggia. Un uomo di 42 anni, di Castellaneta, è morto carbonizzato ieri pomeriggio all'interno della sua auto che ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un muro. L'incidente è avvenuto in località Conca d'Oro, nelle campagne di Palagianello, in provincia di Taranto. È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato il diciannovenne di Francavilla Fontana, Luigi Borracino, responsabile dell'omicidio per futili motivi del suo coetaneo Paolo Stasi. Davanti alla corte d'assise di Brindisi è incorso il processo al suo presunto complice Cristian Candita. Avevano picchiato per futili motivi un ragazzo in un bar di Poggiardo, in provincia di Lecce. Due giovani di 28 e 20 anni sono stati sottoposti ad aspo urbano dal questore di Lecce con divieto d'accesso ai luoghi della Movida. Ha aggredito e picchiato l'anziano padre per soldi. Un 46enne di Marina di Ginosa, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia e rinchiuso in carcere. Il centro d'affari era Orta Nova, in provincia di Foggia, ma il traffico di droga si pandeva poi nella BAT a Bari, Teramo e Chieti. 29 persone sono state arrestate ieri mattina dalla Guardia di Finanza di Bari, 15 in carcere e 14 ai domiciliari. Tra gli arrestati anche Andrea Gaeta, 53enne, nipote del boss di Orta Nova, Francesco Gaeta. Due bombe pronte all'uso erano nascoste nel vecchio capannone di un supermercato in via della Libertà a Lecce. Sono stati i proprietari dello stabile a dare l'allarme, i due ordigni artigianali sono stati rimossi dagli artificieri dei carabinieri. Alcuni pannelli di un controsoffitto si sono staccati all'improvviso ieri pomeriggio nel municipio di Pulsano, in provincia di Taranto. L'incidente fortunatamente non ha provocato feriti, gli uffici della casa comunale sono stati subito sgomberati. Meteo ancora una giornata segnata dal passaggio di nubi senza rischio di piogge. Temperature molto alte con punte di 34 gradi. Venti dai quadranti meridionali con aumento del moto ondoso sul mare Ionio. Calmo il mare Adriatico. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.